Sì, 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 sicuro, sicuro, guarda. È uno dei miei progetti di tornare a Roma e stare un po', di farmi una tre giorni con partita inclusa e la trasmissione con voi. Sì, veramente, è sempre un piacere sentirvi. Siete i Lazieri che ho sempre cercato e che ho trovato. Dai Renato, trovate, troppo un buono. Grazie Renato, a presto. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao Renato. Forza Lazio. Roberto, salutiamo anche te, siamo in chiusura, sperando di riaverti in studio la settimana prossima. Sì, sì, per forza. Buonanotte e forza Lazio. Buonanotte e forza Lazio. Ciao Albertino. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori la settimana prossima, quindi un ringraziamento ai nostri ospiti intervenuti, Enrico Sarzanini, Stefano Garzon, Renato Vento, Alberto Alquadi. Un grazie ad Antonio e a Marco per essere stati qui con me. Grazie a te, Gian. Un buonanotte a tutti e forza Lazio. Forza Lazio, domedì. Le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima. C'è l'immensi, immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amore per te. C'è l'immensi, immenso amore, e poi ancora amore, e poi ancora amore, e poi ancora amore, e poi ancora amore. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto di cesti, tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiari i miei pensieri, continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Grazie a tutti. Camminavi al mio fianco ad un tratto di cesti, tu muori, se mi aiuti sonminge.